Ciao, sono Niccolò e sono qui con Roberto, buongiorno. Oggi vi mostrerò il procedimento per assemblare la versione del pump HTM50 USA. Quindi ho messo la stagione a Roberto e ho dato il calipero, che è usato per spiegare e garantire la precisione per l'assemblamento. Il procedimento sarà cambiato insieme con i pump. Il primo passo è centrare la flange del motore adaptor. Poi, sottolineare le scuole con le allen key. Prima di montare l'organizzazione externa, deve essere calcolato in modo da sottolineare il motore. Il procedimento di calipero prenderà quasi 5 minuti con il 250 W. o l'equivalente. Dopo aver calcolato, prendiamo il calipero. Sottolineando il calipero sull'adaptor, con la flange, creiamo l'hand stroke per l'organizzazione externa. Ora inseriamo l'organizzazione externa, fino a che si riuscirà la barra. A questo punto, abbiamo sottolineato le scuole sottolineate e poi abbiamo riuscito il calipero. Ora possiamo mettere il pump e finire l'ascendimento di procedura tirando le scuole. Grazie, Roberto, per la rivoluzione. Per più informazioni, non esiste a contattere noi o visite il nostro sito www.germicotti.com Questo è tutto. Grazie per la nostra attenzione. Germicotti's team wishes you and I stay.